Il pirata Bologna, dove non c'è mai la propagazione guagata? Il pirata Bologna, dove non c'è mai la propagazione guagata? Il pirata Bologna, dove non c'è mai la propagazione guagata? Il pirata Bologna, dove non c'è mai la propagazione guagata? Il pirata Bologna, dove non c'è mai la propagazione guagata? Grazie per la visione!